Bianca Balti in versione Angelo, la sua sensualità romantica e da star È il momento di mettere le ali d'Angelo, ecco Bianca Balti in versione romanticissima e sensuale con canne e piume angeliche che le fanno da decoro. Lo scatto è poetico e romantico e la modella sembra una vera stare celestiale Bianca Balti, un angelo sempre e comunque Forse pensavate che non avreste mai più rivisto Bianca Balti in versione Angelo? Invece eccola qui, la splendida supermodella italiana, circondata da una serie di piume angeliche e candide che rendono l'atmosfera dello scatto davvero molto romantica La mamma di Matilde Emi ha un'allure squisitamente fatata e celestiale, una vera star, o meglio stella del cielo che si è elegantemente appoggiata sulla terra Il suo viso, etereo e diafano, incanta ai suoi fan e il mondo della moda da quando aveva appena compiuto vent'anni, da quel momento, la sua carriera è stata una vera e propria ascesa Grazie alla sua bellezza innata eleganza è riuscita a imporsi sulle passerelle più importanti a livello internazionale, portando alto, nel mondo, l'onore e il rettaggio dell'alta moda italiana, declinata nei modelli di Cavalli, Armani e Dolce e Gabbana Non solo, Bianca conquista, nel 2005, l'ambitissimo stagio del Winter Show di Victoria's Secret, dopo una strettissima selezione di pochissime modelle che, ogni anno, riescono a calcare quella passerella come angeli custodi del segreto di Victoria Un segreto fatto di pizzi, merletti e sensualissima lingerie per una delle Maison più richieste al mondo. Dopo dodici anni da quella meravigliosa esperienza, Bianca aveva deciso di proporsi nuovamente, affollando la già lunghissima fila delle aspiranti angeli di Victoria's Secret La supermodella italiana aveva il grande desiderio di posare ancora una volta i leggiadri piedi sulla passerella del Winter Show ma, purtroppo, arriva un no da parte della giuria Lei? In cassa con un sorriso con un post molto ironico su Instagram e, come solo una vera signora di classe sa fare, augura buona fortuna ai giovanissimi nuovi angeli di WS Bianca, però, non si è certo scoraggiata e, dopo un matrimonio da favola volta in un abito stile impero, si è rimessa in gioco e ha colpito tutti a Venezia 74 Sul red carpe, tutti hanno potuto ammirare un angelo librarsi in un vestito di bianca organza e seta Bianca Balti a Venezia, l'angelo colpisce ancora. È inutile, l'appellativo angelo, anche se non per Victoria's Secret, si addice tantissima Bianca Balti, che ha incantato tutto il pubblico per la mostra del cinema di Venezia La modella di Lodi si è presentata sul tappeto rosso con un abito di hofs che ha fatto centro dimostrando che anche una griffe più pop può toccare le stelle e non sfigurare al confronto di quelle di alta moda Bianca è un sogno che si realizza sul red carpe, l'abito è bianco e l'ampio kimono che la avvolge le fa da candide ali angeliche, che fluttuano nell'aria mentre cammina, illuminata dal flash dei fotografi Cosa dire di più di bianca se non che, di certo, non saranno dei no e delle porte chiuse a fermare il suo volo angelico verso altri traguardi e altri successi E le fan la ammirano, per il suo esempio di imperturbabile eleganza, nonostante delusioni e difficoltà, brava bianca Ciao